Lo dicevamo poco fa con il coach Barbiero, peccato, insomma oggi Sora praticamente la partita non l'ha giocata. Peccato, un vero peccato, adesso dopo questa sconfitta è anche difficile magari parlare perché dispiace, dispiace tantissimo. Era un'occasione dopo la vittoria di Siena poter sfruttare l'entusiasmo di quella partita per giocare al massimo e per provare a vincere questa partita. Quindi grande rammarico, se devo guardare il lato positivo dentro ogni sconfitta si nasconde ogni volta il seme di un nuovo successo. Quindi credo che questa partita dopo che l'analizzeremo a freddo ci darà buoni spunti per il proseguio. Ecco, cancellare questa partita e ripartire con grande entusiasmo per il finale di stagione deve essere l'imperativo in casa Sora. Fondamentale cancellare immediatamente, stasera chi ha voglia di pensarci ci pensa, io non ho voglia di pensarci, me l'analizzerò domani con i video. Poi subito da martedì, testa la prossima partita, Ravenna, Vibo, Latina, partite molto belle da giocare, molto importanti per tutta la squadra. Dobbiamo essere uniti dopo queste sconfitte, dobbiamo lasciare ogni tipo di nervosismo fuori dal campo e fare quadrato, è la cosa più importante.